Resta con me, allora Raffaella Rea e Liliana Bottone, voi siete le sorelle di Paola interpretata da Laura Adriane Gemma e Vittoria, quindi innanzitutto raccontiamo le peculiarità dei vostri personaggi che a volte hanno anche una conflittualità tra di loro e con Paola, forse a volte è riduttivo Diciamo che la conflittualità è la cifra del rapporto di queste tre sorelle Forse Paola in realtà è quella che cerca di mediare, anche perché caratterialmente è quella che sta un po' al centro Gemma ha un ruolo, è quello di rompere le scatole Lei dimostra il suo amore attraverso lo stalkeraggio, però in fondo è semplicemente molto innamorata delle sue sorelle Vorrebbe vederle felici, vorrebbe proteggerle, sbaglia a volte la modalità, però è anche simpatica Io penso che Vittoria sia quella un po' più affettuosa delle tre nel manifestarlo ma sono tutte e tre molto calorose tra di loro, si vogliono bene però magari forse proprio per questo fatto che ha un ruolo più protettivo Gemma nei confronti delle altre risulta a volte un po' più aggressiva, mentre magari Vittoria che è quella che esce, che fa, che segue la movida, la moda ha una vita un po' più sbarazzina, più leggera apparentemente, forse riesce a unirle un po' con l'affetto, con il lato affettivo Vi chiedo, per un attore poi, quando arriva la notizia e si è stato preso per fare uno dei protagonisti alla fine in una serie corale importante come una serie della RAI, poi abbiamo visto, presentato a Sanremo, quindi ha avuto anche un eco Qual è la prima reazione? Cioè è più forse la gioia o magari la paura? Dico, oddio, mi sto mettendo in un progetto anche complicato Mi piace che ho detto questa cosa, perché almeno per quanto mi riguarda lo sento sempre Sono sempre felicissima, ovviamente se va bene un provino, ma sono sempre molto spaventata, ho paura di non sentirmi all'altezza ho paura a volte di fare il mio lavoro, però mi piace tanto, quindi sicuramente la felicità è la prima cosa e poi anche un po' di paura La cifra del nostro lavoro è questa, cioè quella di non averlo mai realmente in mano Per quanto possa essere un lavoro tecnico, ma in realtà non è come gli altri lavori, che una volta che hai fatto qualcosa quel qualcosa, sì ti resta ovviamente perché l'esperienza ti fa crescere, ma ogni volta affronti una sfida nuova e quindi sei da una parte eccitato e euforico e dall'altro spaventato In questo caso particolare io sono stata felicissima del ruolo, perché Gemma è un ruolo diverso da quello che ho sempre interpretato ha una vena comica che io sento di avere e che in questo momento della mia vita io desidero esprimere Allora decidetevi o mi fate fare più ruoli comici o mi do al cabaret, questo che sia chiaro a tutti Produttori, chiamatela per fare ruoli comici Quindi è bello quando ti danno fiducia per cimentarti in qualcosa che è apparentemente lontano da te ma Monica, in questo Monica Vullo, la regista, io le devo tanto Senti, non posso non chiedervi da donne, vista poi la tematica del film al di là del poliziesco quello che accade, il fulcro della vicenda, quindi la perdita del bambino e l'adozione fra virgolette di questo ragazzino rimasto orfano Voi vi siete domandate, io personalmente cosa avrei fatto, come avrei reagito, come mi sarei comportato? Noi esseri umani questa domanda ce la poniamo sempre, io cosa avrei fatto, cosa avrei detto Il problema è che la risposta non risponde mai alla verità Bisogna trovarci Bisogna trovarci, però io penso che la vita a volte ti può lanciare dei messaggi e nel momento in cui l'unica cosa che ti frena è la paura vuol dire che quella cosa la devi fare, perché vuol dire che è un'opportunità è la possibilità di crescere, è la possibilità di trovare un modo diverso per ottenere lo stesso risultato, in quel caso è una famiglia, è l'amore è la crescita di un bambino, quindi io penso che sarei stata propensa Poi per me i bambini danno un grande senso alla vita Sono d'accordo, penso che se vivessimo tutte le nostre scelte solo di testa ci perderemo tantissime occasioni nella vita Non sono una madre, non ho intenzione di diventarlo a breve quindi non so come ci si possa sentire nel perdere un bambino Però sicuramente credo che a volte l'amore ci spinge a fare delle scelte che sembrano azzardate, possono sembrare sbagliate però, come diceva Raffaella, magari affrontare determinate paure ci porta poi ad essere più felici, a scegliere quello che davvero vogliamo Senti, la serie ha già, ancora prima di andare in onda ha già un successo annunciato perché sta presentata anche sul palco di Sanremo in Pompamagna, quindi praticamente, insomma, siete un po' lì L'aspettativa, l'aspettativa Esatto, esatto, e quindi visto che avrà successo, voi siete pronte anche a farne sette stagioni? Volendo, oppure personalmente, quindi ognuna poi risponde ovviamente per sé non vi piace magari legarvi troppo a un singolo ruolo ma preferite non restare più di tanto? Ok, parlo per me Certo, io sono all'inizio della mia carriera quindi sicuramente mi piace l'idea di poter spaziare tra tanti progetti diversi questo non vuol dire che però un personaggio, una serie, un prodotto non possa andare avanti per una, due, tre stagioni, quello che sia adesso non saprei dirlo che cosa succederà però sicuramente non mi dispiacerebbe vestire di nuovo i panni di vittoria Beh, anche io parto sempre dal presupposto che le mie scelte si basano sulla scrittura quindi che sia la seconda, la terza, la quarta nel momento in cui, diciamo, le fondamenta del progetto sono in una scrittura fatta bene, che racconta qualcosa di nuovo e che fa crescere il mio personaggio io, anzi, sono una persona che si affeziona particolarmente ai propri personaggi avendo sempre la possibilità poi di cambiare e di spaziare e comunque facendo tutti gli scongiuri del caso lunga vita a questa serie Però se mi fate fare un ruolo comico io so più come Ah, guarda, guarda veramente Ha una vera personalità il personaggio? No, no, anzi, forse ha quel pizzico di foglie in più che non guasta Senti, a proposito dei personaggi, uno dei, tra virgolette, dei personaggi della serie è Napoli Sì Quindi, com'è stato il vostro rapporto con la città? Lo stare lì, girare? Allora, io sono della provincia di Napoli Io lo dico perché altrimenti i miei concittadini pomigliani sono di Pomigliano d'Arco Esatto, diciamo, viva Pomigliano d'Arco Viva Pomigliano d'Arco Napoli, in questo momento storico particolarmente, secondo me è una città che parla da sola È una città che riesce a raccontarsi Ha un fermento dentro di sé Quindi è sia futuro che storia Io a Napoli ci sto sempre benissimo E assolutamente sento nel momento in cui lavoro lì L'energia L'energia che viene messa poi nella recitazione, nei personaggi di tutti Una storia ambientata a Napoli non sarebbe mai la stessa storia se fosse girata altrove Stare a Napoli è un'occasione bellissima per stare a contatto con tantissime persone Con una vita molto, molto forte Cioè i rumori, tutto, tutto quello che c'è a Napoli Chiediro al fonico Esatto, chiediro al fonico A me ha fatto tanto piacere Anche io non sono di Napoli, sono di Caserta E non avevo mai vissuto molto la città Perché comunque mi sono trasferita a Roma tanto giovane Però per me è stato bellissimo Avere l'occasione ogni volta di andare a Napoli Girare lì, girare nei vari quartieri Anche in macchina girarmela per bene come non avevo mai fatto E' stato veramente bello E per chiudere, a proposito di girare Che altro avete in cantiere? Che dove altro vi vedremo dopo, resta con me? Ok, posso dirlo perché è già stato detto Anche se non lo potevi dire lo stesso Posso dirlo Posso dirlo Che uscirà un film di e con Antonio Albanese Dove sono coprotagonista insieme a lui Non sappiamo ancora quando sarà distribuito Però sicuramente è il prodotto che sto più aspettando Perché è una cosa a cui tengo tantissimo E' un film drammatico d'autore Scritto da lui E non vedo l'ora Non vedo l'ora che esca Io Sono ancora in onda su Netflix Con la vita bugiarda degli adulti La regia di De Angelis con Lagolino Ah bravo Vedi vedi le amiche E poi il 16 marzo al cinema Verrà distribuito dalla 01 Un film con la regia di Stefano Cipani Scritto dai fratelli di Innocenzo Con Claudio Santamaria Giovanna Mezzogiorno Sergio Rubini Angela Finocchiaro E la sottoscritta E ve lo consiglio vivamente Perché è un film che va assolutamente visto E che è educazione fisica Non l'ho detto educazione fisica Non l'hai detto perché giustamente Non l'hai detto Vai Cento Domeniche di Antonio Albanese Educazione fisica Educazione fisica che è già passata La festa del cinema di Roma Esattamente Sei preparatissimo Stavo lì Giustamente Meno male che c'è lui Meno male che c'è lui E quindi per chiudere Diamo l'appuntamento invece Agli spettatori di Rai 1 E di Rai Play ovviamente Vi aspettiamo tutti Numerosissimi Per questa nuova avventura Che si chiama Resta con me La prima puntata È il 19 febbraio Domenica Su Rai 1 Per chi non facesse in tempo Non avesse modo Perché lavora Perché dorme Perché va dai bambini Perché si trucca Potete vederlo su Rai Play Perfetto Allora grazie E complimenti Grazie a voi Grazie mille